Nicole Ejert è, volente o nolente, uno dei volti degli anni 90. La serie televisiva di cui fu protagonista la rese effettivamente una vera e propria diva, anche se per un lasso di tempo non molto lungo. Ma quelli di Bayvatk sono stati fasti troppo clamorosi per non portarci a chiederci che fine abbiano fatto alcuni dei personaggi che popolarono quel serie televisiva rimasta nella mente di molti telespettatori, americani come europei e non solo. Ebbene, Nicole è stata uno di quei personaggi che, per le sue vicende, ha fatto in modo che si parlasse, nel bene e nel male, di lei. Prima di tutto va doverosamente detto che oggi, rispetto a quando indossava il proverbiale costume da bagno arancione e osservava i bagnanti da una torretta delle grandi spiagge californiane, Nicole fa una professione completamente diversa, che peraltro ha davvero poco a che fare con il mondo del cinema e delle serie televisive. La gelataia. Può sembrare assurdo mai così, per quanto vada aggiunto che ha comunque trovato una cifra stilistica originale per farlo. Tutto comincia dai debiti, visto che nell'allora 2013, l'attrice è stata costretta a dichiarare bancarotte in seguito a diverse difficoltà economiche e ad ipotecare la sua casa, ritrovandosi con un debito di 73 mila dollari da portare sulle spalle. Pare tuttavia che la cosa non l'abbia scoraggiata, o che comunque lei abbia trovato la forza di rialzarsi con un'idea, che pare al momento stia riscuotendo non poco successo. Non è infatti solo una gelataia ambulante, per quanto la forma sia sostanzialmente quella con un camioncino a scarrozzare per le strade di Hollywood, ma si è inventata l'idea di comunicare i suoi full-lover su Twitter dei suoi spostamenti. In questo modo, ogni volta che qualcuno è alla ricerca delle e le sue prelibate prebende, saprà dove andarla a cercare. Insomma, l'idea merita di essere premiata. Chi se ne frega!